La questione stadio Marco Tomaselli sembra essere titoli di coda. Nei prossimi giorni si attendono le ultime notifiche e le ultime firme per aprire finalmente lo stadio e dare una casa alle società che possono praticare le loro attività sportive. Ne abbiamo parlato con l'assessore Marcello Franciamone. I lavori sono ormai all'atto conclusivo. Voglio ricordare che questo lavoro è stato interamente finanziato dal Sport e Salute per un importo complessivo iniziale di circa 960 mila euro. I lavori sono stati realizzati dall'impresa Fratelli Anastasi che si aggiudicò l'appalto con un ribasso del circa il 22%. Per cui i lavori strettamente legati a questo appalto sono costati in totale circa 659 mila euro.